Oggi viene presentato finalmente il logo del Forum Giovani, un nuovo organo rappresentativo di partecipazione attiva dei giovani e giovanissimi dai 16 ai 29 anni, che è partito nel mese di gennaio e che oggi finalmente ha un'immagine. Un'immagine grazie a un'artista, una grafica, anche lei giovanissima, Margherita Venanzini, che oltre a essere ringraziata pubblicamente oggi vince anche 500 euro, che è un piccolo contributo per il suo lavoro. Il Forum Giovani rappresenta sicuramente un modo nuovo per i giovani della città di rendersi protagonisti di azioni, di pensieri e di cambiamenti per i giovani ma anche per noi adulti. Spesso ci lamentiamo che le nuove generazioni non siano così partecipi nella vita pubblica. In realtà con il Forum Giovani abbiamo cambiato, modificato questo tipo di azione e di visione. Sono loro che propongono noi adulti dei cambiamenti e noi adulti dobbiamo semplicemente recepirli. Ecco perché il rapporto con gli assessori e con gli organi comunali, con il Consiglio, in primis, è fondamentale. Diciamo che il lavoro che abbiamo dovuto impostare quest'anno è stato sicuramente quello di una costruzione, di un metodo di lavoro che vogliamo riportare durante i prossimi anni. L'anno prossimo l'obiettivo è quello di crescere, di includere più ragazzi possibile per riuscire ad aumentare sia le esperienze che riusciamo a portare all'interno del Forum che le competenze che è la voglia di fare sicuramente. Noi siamo un gruppo coeso che lavora tutti insieme, abbiamo delle commissioni divise, è vero, però mensilmente riferiamo tra di noi e ci teniamo sempre informati al massimo per riuscire a lavorare tutti insieme su tanti temi diversi. Si sono già attivati in diverse commissioni, hanno fatto degli incontri per gli spazi, per esempio, della Biblioteca delle Cinque Torri che è al centro delle cronache, anche come spazi dedicati ai giovani. Saranno interessati dal progetto ossigeno che presenteremo ufficialmente nelle prossime settimane, che li vedrà protagonisti, studenti e studentesse, all'interno del Parco Miro Alfiora, intrecciarsi con gli altri progetti di politiche giovanili. Quello appena vinto su Init, che porterà 200.000 euro al Comune di Pesaro, risultato primo in campo nazionale fra i comuni medio-grandi su questo tipo di progettualità. Sul progetto ossigeno, appunto, che è finanziato dal garante regionale, dei diritti del giovane e del fanciullo e tanti altri progetti che abbiamo intenzione di intercettare nei prossimi mesi e che vedranno ancora una volta i giovani protagonisti.